buonasera buonasera siamo finalmente giunti all'ultimo round passiamo alla nostra prima domanda con giuseppe l'agricoltore come fai a sapere quanti additivi alimentari usare in un prodotto non si possono usare additivi risposta sbagliata mi dispiace è il turno della nostra fiorella la profumiera come fai a sapere se ci sono sostanze tossiche nei cosmetici li uso e vedo come fa forse mi scusi peccato sarà per la prossima volta sentiamo ora il capocantiere sandro come fai a sapere cosa scrivere in un contratto d'opera telefono la mia ex moglie risposta errata e ora passiamo alla signora Uga la nostra campionessa in carica ma chi ti rivolgi quando hai un dubbio sui tuoi diritti di consumatore la risposta giusta è sempre rivolgersi alle guide ai diritti scarica gratuitamente le guide ai diritti sul sito della camera di commercio più informati più protetti grazie 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 grazie